Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio fatto per porta a porta su Rai 1, sulle intenzioni di voto politiche nazionali. La Lega al primo partito perde l'1% ed è al 22. Il Partito Democratico perde l'1% ed è al 18. Fratelli d'Italia guadagna l'1% ed è al 18 con il Partito Democratico al secondo posto. Il Movimento 5 Stelle perde lo 0,5 ed è al 17. Forza Italia guadagna l'1% ed è al 7,5. Calenda stabile al 3%. Italia Viva stabile al 2%. Cambiamo di Totti perde lo 0,5 ed è all'1,5. Noi con l'Italia di Lupi perde lo 0,5 ed è all'1,5. L'EU articolo 1 stabile all'1,5%. I Verdi stabili all'1,5%. Sinistra italiana guadagna lo 0,5 ed è all'1,5. Tutti gli altri partiti messi insieme guadagnano sono l'1% e sono al 5%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.